La nostra partecipazione qui è fatta tre momenti, un momento che dobbiamo ricordare e ringraziare che è il patrocinio dato direttamente dall'Istituto, è qualcosa che non viene data tutti i giorni. Quindi tutta la comunità indienese è quello che deve essere orgogliosa di questo perché ha riconosciuto in questa mostra delle caratteristiche talmente di valore da dare in patricina. Il secondo momento è dato dalla presenza di queste opere che possiamo tranquillamente vedere insieme e studiare insieme, siamo qui per accompagnarvi. E poi c'è un terzo momento e anche qui siamo noi che ringraziamo voi che sarà la Basilica di San Magno con l'incontro con il nostro storico dell'arte in calendario e con tutte le altre conferenze. Quindi siamo noi, ringraziare voi per averci dato questa opportunità e io in modo particolare consentito.